Il rifugio Europa è costruito a cavallo della linea di confine tra Italia e Austria. Rappresenta un ottimo esempio di collaborazione transfrontaliera. Esposto al vento e alle intemperie dell'alta montagna e segnato dal tempo, il rifugio necessita di importanti lavori di ristrutturazione. Dopo le perizie geologiche, il veredetto è chiaro, il rifugio va ricostruito. Esso sorgerà leggermente spostato su un terreno più stabile, rimanendo sul crinale del confine italo-austriaco. Rappresenta un nuovo rifugio che ha bisogno di essere restaurato, rifatto probabilmente nuovo, che continuerà ad essere nel futuro un simbolo dell'unione fra due territori. Bellissimo! Con la firma del protocollo d'intesa è stato compiuto un passo importante in questa direzione. Il programma dell'Euregio Fit4Co continuerà ad assistere la pianificazione e l'implementazione di questo progetto trasfrontaliero. In questo modo, il nuovo rifugio Europa diventerà un simbolo per la cooperazione tra territori in uno spirito europeo. L'obiettivo è ambizioso, festeggiare la riapertura del rifugio nel 2024, a 125 anni dalla sua prima inaugurazione.